Ciao a tutti ragazzi, questa sera recensione di un liquido che sulla carta mi aveva interessato tantissimo però al momento di svaparlo mi ha lasciato un pochettino così Ciao a tutti, come avete visto stiamo parlando del canelè di Odis Design un liquido dolce, un cremoso, e dico dolce prima di cremoso perché per me è veramente troppo dolce andiamo per gradi come al solito allora, il bello di questo liquido intanto è che viene venduto all'interno di questa confezione di carta molto carina, all'interno non c'è altro che un opuscolo scritto in inglese e francese e dell'imbottitura in cui poi è contenuto inoltre il flacone classico di liquido flacone riempito come al solito con 50 ml a cui bisogna aggiungere la base neutra a zero oppure con la graduazione di nicotina voluta per ottenere il liquido finale alla appunto graduazione che più preferite cosa dire? è molto... sono molto combattuto su questo video allora intanto vi faccio vedere quanto ne manca di solito chi mi segue sa benissimo che io arrivo qui prima di fare la recensione questa volta onestamente me la sono quasi voluta togliere subito per diversi motivi per alcuni di questi farò un pochino più svappate del solito ma ravvicinate quindi non ci sarà l'intermezzo musicale con i 30-40 secondi di svappate consecutive ma ne farò una, due parole, un'altra dopo capirete anche il perché allora andando a vedere il flacone cosa troviamo Canelè by Odis Design Patisserie Original altro abbiamo la batch la scadenza che è il 31 agosto 2019 è un 75-25 di interessante non ci vedo nient'altro 0 nicotina 60 millilitri 60 millilitri una volta che come detto si aggiunge la base allora andiamo ad assaggiarlo a dito come al solito io l'ho fatto anche poco fa voi non fatelo mai non va bene ingerire la nicotina in questo modo è molto dolce diciamo che parzialmente riesco a sentire quello di cui dovrebbe sapere ovvero dovrebbe essere un dolcino francese con rum, vaniglia e del caramello allora io così ce li sento alla svappata però no io la svappata sento ve lo dico dopo cosa sento allora lo stiamo svappando in bottom feeder come al solito questa è la Steam Rabbit originale edizione Cooking Flava abbiamo su l'armor 1.0 originale buildato in dual coil con le resistenze apposite fatte da Giuseppe Volpe GV Build sempre lui ho sostituito il tip originale che per il mio tipo di svappo in dual coil è troppo piccolo e ho montato un whiteboard quindi un pochino più da cloud ma non è il setup definitivo da cloud in quanto le asole sono ancora quelle diciamo molto più da flower così non è che l'aroma manchi perché ho provato anche altri liquidi ed è perfetto allora premesso che questo liquido l'ho comprato un mesetto fa ho aggiunto quasi subito la basetta nicotinata dopodiché l'ho lasciato lì come sapete quando acquistate appunto i liquidi pronti e dovete aggiungere la base contenente nicotina o anche neutra conviene aggiungere dare una mischiata e aspettare comunque un paio di giorni in questi due giorni ogni tanto gli ridate una leggera mescolata un minuto così niente di che e non svapparli subito anche perché soprattutto se c'è la nicotina tende a non miscelarsi molto bene quindi con i primi tiri sentirete un hit un colpo in gola e nel petto molto più forte detto questo quindi cosa c'è che non mi piace di questo liquido allora la prima cosa che è veramente dolce se svapo per tutto il tempo che mi è concesso dal dripper quindi siamo a una decina di tiri consecutivi mi rimane una patina qui sulle labbra dolce quasi fastidiosa io lo dico sempre a me i dolci non piacciono sembra veramente di aver mangiato del dolce la controparte di pasticceria che dovrebbe rappresentare questo liquido io non la conosco non l'ho mai mangiata mi ricorda vagamente non so se le conoscete tutti quanti una volta si vedevano molto quando ero diciamo giovane io le madeleine sono dei dolcini fatti tipo a barchetta è una sorta di pan di spagna saporito ma non troppo è un dolcino delicato molto piacevole quelle a me piacevano piacevano parecchio proprio per la poca parte di dolce cosa che invece questo liquido è veramente per me nauseante infatti sono onesto quello lo lo regalerò mi son voluto togliere la recensione subito per darlo via perché non non fa proprio per me non mi piace non va bene allora durante il corso della giornata i sentori mi sono mi sono cambiati parecchio al mattino principalmente la nuota dolce veramente questa nauseante che sto continuando a ripetere non non mi piace altro non sono riuscito a sentirci se non dei sentori di crema la parte di torta mi viene a mancare quasi sempre in questo momento un pochettino ce l'abbiamo mi sono subito prima del video sciacquato la bocca con l'acqua frizzante e un pochino riesco a sentirla rum e vaniglia poco li sento assaggiandolo a dito assaggiandolo a dito soprattutto rum è presente così lo sento ed è molto gradevole però è veramente troppo dolce sembra zucchero liquido alla svapata io non riesco a sentirlo l'ho provato in questo sistema l'ho provato anche su un single coil centrale in modo da provare a mantenere il vapore un po' più freddo perché quest'atomizzatore buildato così tende dopo un 5-6 tiri a scaldare anche in single coil centrale non sono riuscito ad apprezzarlo comunque l'ho provato anche su Goon con le solite GV build da 0-16 cap da flavor su tubo meccanico ma anche lì più o meno i sentori sono gli stessi che ho sull'armor non ho un gusto definito non riesco a definire un sapore anche se mancasse magari la percezione di un aroma oppure sentissi ad esempio più rum che vaniglia per me sarebbe già ottimo questa è forse la prima volta che mi capita in un liquido di non riuscire a distinguere gli ingredienti e mi dispiace allora questo liquido l'ho acquistato in negozio sul consiglio di un ragazzo che lavora lì perché mi ha detto che veramente andava in effetti hanno finito due ore stock molto velocemente mi sono fidato non conoscevo assolutamente questo liquido non sapevo di cosa dovesse sapere alla fine mi sono fidato però non ne sono assolutamente soddisfatto naturalmente la colpa non è del venditore non è del produttore non è di nessuno ognuno ha dei liquidi che preferisce degli altri che magari gli piacciono un pochettino meno questo per me è uno di quelli che piacciono meno se non fosse così dolce me lo sarei svappato comunque perché lascia un gusto che alla fine è piacevole non è ben definito per me di nulla però è piacevole il problema qual è? e torniamo all'inizio del discorso quando vi ho detto che avrei fatto più tiri del solito spezzettati il problema è che praticamente in neanche 5 ml le resistenze sono in questo stato ecco come vedete le resistenze sono completamente incrostate io ho già fatto un dry burn dopo solamente 5 ml svappati qui ce ne sono alle spalle altri 5 e come avete visto se utilizzassi i fili singoli sarebbe da rebuildare tutto da capo adesso infatti stasera leverò il cotone e farò un altro dry burn però cambierò liquido e da 60 ml il flacone finito non ha senso mettersi a fare tutte queste volte il dry burn o comunque dover cambiare resistenze questo è dovuto dal fatto che è veramente dolce gli zuccheri quando si svappa vengono praticamente caramellati si caramellizza tutto sulle resistenze so che non si è visto benissimo vi allego adesso anche una foto però sono veramente in uno stato vergognoso e danno alle spalle 5 ml perché ne ho svappati 5 ho visto che erano sporchi e ho fatto il dry burn ne ho risvappati altri 5 e sono di nuovo in questo stato per me è inconcepibile che è un liquido sporchi in questa maniera sembra quasi l'ornimango l'ornimango spezzava anche il cotone questo no però lo rovina veramente tanto e sto utilizzando l'angorabbit che torna sempre bianco adesso proviamo a portarlo alla secca ma non sarà facile perché le resistenze fanno schifo dopo pochi tiri ma qui non si riesce a farlo tornare bianco rimane giallo ed è la prima volta che mi capita con un liquido già si sente il gusto di ferro quindi no 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 basta il cotone non torna comunque bianco rimane rimane molto tendente al giallo umido ai lati perché la resistenza non ce la fa più a vaporizzare nulla in quanto è completamente incrostata io non vi sto sconsigliando di provarlo attenzione secondo me va comunque provato però non è un liquido che fa per me io mi son dilungato già troppo volevo pulirmi la bocca mi son dilungato già troppo come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto con l'ultima svapata di cotone ferro no con l'ultima svapata di un altro liquido io vi saluto come al solito domande commenti curiosità insulti va tutto bene nei commenti qui su youtube o privatamente su messenger e dicevo con l'ultima svapata vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao belli ciao 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 Grazie a tutti.